E' stata celebrata anche quest'anno la rievocazione dell'antica cavalcata storica dei Cavalieri della Stella. A promuovere l'iniziativa, aggiunta alla sua terza edizione, l'Associazione Storico-Culturale Compagnia d'Armi Rinascimentale della Stella. Il servizio. La sensazione è quella di un affascinante salto nel passato. Si svolta anche quest'anno la rievocazione della cavalcata storica dei Cavalieri della Stella, nel 520esimo anniversario della Fondazione. L'evento, aggiunto alla sua terza edizione, è promosso dall'Associazione Storico-Culturale Compagnia d'Armi Rinascimentale della Stella di Messina, per rinnovare l'antica tradizione che vedeva il giorno dell'Epifania la festa dell'antico ordine militare della Stella, sodalizio fondato in Messina nel 1595 e sciolto nel 1678 dopo la rivolta antispagnola. Il corteo, composto da 50 figuranti in abili ed armature rinascimentali, ha ripercorso l'antico tracciato che vedeva la cavalcata dei Cavalieri della Stella nelle festività più solenni della città e in modo particolare nella solennità dell'Epifania. È partito da Piazza Palazzo Reale e si è concluso con l'arrivo a Piazza Vittorio Emanuele Orlando, di fronte al Teatro Vittorio Emanuele, attirando l'attenzione di tanti passanti, messinesi e non. E appuntamenti del weekend.